Ciao a tutti, mi chiamo Massimo Bressan e arrivo dalla provincia di Bergamo. Io sono venuto in questa clinica tramite un annuncio che avevo trovato su internet, mi sono considerato che in Italia avevo fatto fare molti preventivi per un lavoro importante. Ho mandato la documentazione a questa clinica e in pochissimo tempo mi hanno risposto in maniera molto veloce, rimandandomi il preventivo, ho mandato panoramica e il lavoro che avrei dovuto fare, allorché mi sono accordato con loro e sono sceso per fare il primo intervento. Ho trovato una clinica molto ma molto alla vanguardia, con della gente assolutamente preparata e assolutamente accogliente e da lì ho iniziato questa esperienza, questo lavoro che comprendeva la sostituzione dell'arcata inferiore e l'arcata superiore in zirconio. Devo dire che sono stato veramente trattato da persone competenti, la clinica è assolutamente una clinica all'avanguardia con mezzi e strumentazioni di nuova generazione e devo essere sincero, ho anche a livello economico risparmiato parecchi, ma parecchi soldi. Quindi se qualcuno vede queste informazioni su internet venite sicuri in questa clinica perché vi troverete assolutamente bene e veramente sarete seguiti da persone competenti.